Sono orgoglioso di essere bresciano non certo per gli aspetti vernacolari e per i provincialismi che allignano nella nostra città, che anzi mi fastidiscono, ma perché sono convinto che abbiamo una qualità particolare. La definirei genio e regolatezza. Brescia ha dato al mondo negli ultimi 150 anni uno dei massimi statisti italiani, Giuseppe Zanardelli, un grande della scienza, Camilo Golgi, Papa Paolo VI, un gigante del Novecento, il più eccelso pianista del ventesimo secolo, Arturo Benedetti Michelangeli, un filosofo finissimo, Emanuele Severino, uno dei più validi politici della Repubblica, Milo Martinazzoli. Se ci riflettiamo erano tutte persone molto serie e riservate. Siamo una città anti-esibizionista. Nelle nostre espressioni migliori sappiamo essere di una concretezza e di un'efficacia impareggiabili, senza fronzoli, senza vanterie né prosopopea. Ecco, tutte queste caratteristiche mi rendono orgoglioso e felice di essere figlio di Brescia.